Figlia di un medico, è laureata in filosofia all'Università di Palermo. Dal 1998 al 2000 studia alla Scuola Europea e di recitazione del Teatro Carcano di Milano, presso il quale partecipa anche a un corso di storia del teatro con Luigi Lunari. Nel 1999 fa parte del castattoriale di Lisistrata di Aristofane. Di Lepiaton dell'Aire di Eugène Ionesco per la regia di Silvio Pandolfi. Mentre nel 2000 partecipa alla commedia di O.D.V. di Allen per la regia di Valeria Di Pilato. Dal 2000 al 2001 recita in Quando il marito va a caccia di George, Ifeido. Per la regia di Manuel Serantes. Nel 2002, in Bernarda Alba di Federico Garcia Lorca. Per la regia sempre di Serantes.